Ciao pesci, bentornato. Oggi è giovedì, 24 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo pesci. Vasca da bagno con bollicine. Giornata acquatica questo giovedì, non solo grazie al filosofo Saturno, al vostro inquilino Nettuno Marinaio e ai suoi amici, la Luna e Marte Cancerini, la novità riguarda il Sole che poco dopo mezzanotte ha raggiunto Mercurio in Scorpione. Un totale di sei astri su dieci firmati dal vostro elemento, tutta sensibilità, creatività, poesia. Reale o interiore il viaggio domina la scena, suscitando emozioni profonde che scatenano spunti creativi, l'artista che sonnecchia in voi si risveglia all'improvviso, felice di ritrovare se stesso e i propri talenti. Tutti vi stimano e vi vogliono bene, parenti e amici, vicini e lontani, piccoli screzzi solo con il partner e i figli, questioni di poco conto, però, che dopo un'accesa discussione si risolvono con un abbraccio e un bacio. La coppia è aiutata dall'armonia che c'è nell'ambiente circostante in cui vive. Potrebbe essere anche l'opportunità di nuove amicizie e di nuovi incontri proprio nell'ambiente di lavoro o in cui si vive. I single incontreranno persone interessanti proprio nell'ambiente in cui vivono o lavorano, anche l'anima gemella. C'è qualcuno che con molta discrezione e in silenzio nutre sentimenti per voi, cerca di non darlo a vedere poiché pensa che sarebbe impossibile coronare il suo sogno con voi. Possibili discussioni a causa di denaro. Evita prestiti di ogni genere. Le stelle ti faciliteranno in molte cose ma non nel denaro. Vantaggiosi spostamenti e viaggi. Entusiasmo tra amici. Non abbiate fretta di concludere e soprattutto ponderate le vostre decisioni bene prima di prenderle. Se avete sognato qualcosa e siete nati di lunedì potrebbe avverarsi quello che avete sognato da un momento all'altro. Notizie in arrivo via telefono o via posta. Una persona oggi vi aiuterà tantissimo in una questione molto delicata, sappiate essere poi riconoscenti. Un'amicia da rinsaldare assolutamente, rapporti tra parenti da chiarire. Se vi sentite in difficoltà, oggi è il momento di aprire il cuore alla speranza. Per voi oggi c'è un Giove che vi potrà garantire piccoli successi. Sarà eloquace, socievole e affascinante. Eccellente intesa con gemelli. Cambiate subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e disagio nella vostra vita, solo dopo che avrete cambiato qualcosa nella vostra vita noterete quel successo che Giove ha scritto nel vostro cielo. Non affidate le vostre confidenze a persone sconosciute o di cui sapete poco o niente. Non mettetevi nelle condizioni di farvi criticare. Assumete un atteggiamento rispettoso degli altri ma che esige rispetto per la vostra privacy. Quasi tutti i pianeti, con l'esclusione di Venere e Giove, vi appoggiano. Almeno quei pianeti conosciuti nel Sistema Solare. Il nostro codice astrologico infatti conosce e prevede altri due pianeti di cui non sappiamo le effemeridi, ovvero non possiamo sapere dove si trovano, che effetti danno al vostro segno dei pesci. Vincente sarà per voi in ogni caso la vita familiare, rallegrata dai buoni rapporti e una fresca socievolezza. Giornata magica, meglio di così non potrebbe andare. Vero che Venere e Giove opposti anche tra loro transitano in quadratura, ma sono così benefici e innamorati che non vi procurano fastidio alcuno. Dalla vostra parte innanzitutto i due luminari, la luna grintosa con Marte nel segno acquatico del cancro, grande amico del vostro, mentre il sole passato poco dopo mezzanotte dalla bilancia allo Scorpione si incammina verso Mercurio immaginifico e profondo proprio come voi e i vostri inquilini Nettuno poeta e Saturno filosofo. Aggiungeteci la forza rassicurante di Plutone e Urano, entrambi in segni di terra in sestile al vostro, come le colonne d'Ercole vi impediranno di perdervi in mare aperto, anche se viaggerete con piacere e con profitto, godendovi in simultanea il miele e il pepe del cuore e del letto. Tutte dritte insomma, una giornata migliore di così la si sarebbe dovuta inventare a tavolino, le stelle vi amano perché voi amate loro. Amore ed Eros. Volete l'amore e lo avete, così come la pace e la serenità in famiglia, affettuosa e protettiva, a riparo da cambiamenti di umore e atteggiamento. Dalla vostra parte parenti e amici, vicini e lontani. Col partner magari vi beccate un po', ma si tratta di screzzi di poco conto che si concludono inevitabilmente con caldi abbracci e baci bollenti. Qualche tirata d'orecchie ai figli piccoli, i grandi invece, già lontani per completare gli studi per i primi passi nel mondo del lavoro, vi mancano moltissimo, ogni loro telefonata è miele per il vostro cuore. Lavoro e denaro. Nati per la creatività trovate ovunque motivo di ispirazione, basta guardarvi attorno per sentirvi muovere qualcosa dentro. L'arte è il vostro canale espressivo, ma se non potete, almeno per ora, farne la vostra professione a vostra disposizione rimane sempre la serata per covare le vostre uova d'oro e mettere nella tanor, il forno alchemico, il vostro prossimo capolavoro. Benone anche viaggi, spostamenti, attività sportive. Avete mille ragioni per sentirvi sicuri e felici, perciò lo siete. Benessere. Il sistema immunitario è sempre delicato e va sostenuto con gli integratori suggeriti dal vostro erborista. Utilissimi anche gli allenamenti sportivi da effettuare quotidianamente con il sole e con la pioggia. Se per la fine del mese avete programmato un viaggetto, prendendo ferie in controtendenza, complimenti avete fatto la scelta giusta. Magari al mare, sulle coste meridionali d'Europa, oppure in crociera, all'altro capo del mondo dove esplode la primavera con bellissimi fiori profumati. Tanti colori anche per voi, non solo l'azzurro del mare, anche il giallo, l'arancione, il blu, ispiratori per la mente, riscaldanti per il cuore. Denaro. Il formidabile duo astrologico costituito dalla luna e da Marte nel segno del cancro, favorisce gli investimenti fruttuosi se siete nati in marzo e dunque quanto mai è consigliabile seguire il fiuto di affari che possano rivelarsi indovinati. Non vi pentirete delle scelte che compirete in questo momento. Per lei, sgridate la vostra bimba e non ve ne pentite nemmeno se piange, le regole sono regole e vanno rispettate. Per lui, cosa vi salta in mente, voi sempre così prudenti, di commettere infrazioni al volante? La muta la scantonate per un pelo, ma attenti, la prossima volta la prenderete. Colore delle emozioni, verde petrolio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.